Forme insospettabili come questa, un arrugginito e pesante coperchio a prima vista, una pericolosa mina anticarro tedesca della Seconda Guerra Mondiale nella realtà. Sono gli ordigni belli, cinesplosi, di cui è disseminato il nostro territorio. In prima linea, nella loro individuazione bonifica, gli artificieri dell'ottavo genio guastatori paracadutisti fulgore. Nel 2018 quasi 1.400 le richieste in Italia, 8.200 gli ordigni disinnescati. A settembre 2019, nel territorio dell'area nord, siamo già a 817 richieste, 2.302 ordigni. Sì, è importante non sottovalutare la minaccia. La minaccia è sempre costante e reale. Chiaramente non sempre vengono rinvenuti ordigni di grosso calibro, di grosse dimensioni che comportano chiaramente per motivi di sicurezza, dei raggi di sgombero e quindi delle evacuazioni sui territori interessati, che chiaramente comportano anche dei piccoli disagi per i residenti. Però non è da sottovalutare il fatto che l'ordigno, anche se piccolo, è un ordigno molto pericoloso, che sicuramente può causare delle gravi menomazioni fino a portare addirittura alla morte. Il 79enne ferito a Gallio martedì era un collezionista che gli ordigni li cacciava con il metal detector, ma il pericolo è sempre in agguato. Non è facile distinguere un ordigno perché sono dei residuati che giacciono sul suolo, ma sotto terra, da parecchi anni, quindi fesso sono rinvenuti in pessime condizioni di conservazione. Però nel dubbio non toccare assolutamente l'ordigno, allontanarsi, avvertire immediatamente le forze dell'ordine, le quali innescheranno tutta una procedura ormai collaudata, fino ad arrivare all'intervento immediato degli artificieri dell'esercito italiano. Un'opera quotidiana, quella del genio guastatori, su un territorio molto vasto. In particolare, per quanto riguarda la bonifica degli ordigni esplosivi, i residuati bellici, il territorio di competenza va da Friuli Venezia e Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Grazie.